Nell'ambito dei normali controlli per il contrasto del gioco illegale, i finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno eseguito una serie di interventi presso circoli, ricreativi e bar dell'area cilentana e del capoluogo. Anche in questo periodo di emergenza epidemiologica infatti non mancano gli avventori delle sale gioco, esercizi che dovrebbero rimanere chiusi in base alle disposizioni per il contenimento del Covid-19, peraltro anche nei locali pubblici che pure potrebbero rimanere aperti e in ogni caso interdetto l'accesso delle aree gaming. Una settimana fa in una caffetteria nella periferia di Salerno sono stati invece rinvenuti e sequestrati tre totem terminali che, in modo del tutto abusivo, consentivano la partecipazione ad una vasta platea di giochi online, tra cui i classici blackjack e roulette. Altre anomalie sono state incontrate in quattro esercizi commerciali di battipaglia, eboli e teggiano, dove i militari hanno scoperto 28 apparecchi da gioco con vincita in denaro. Uno dei proprietari è peraltro recidivo. Qualche giorno prima gli erano state già sequestrate dieci slot machine illegali. Per recuperare la perdita ne aveva subito installate un'altra decina, sempre prive delle prescritte licenze. Anche su queste sono stati apposti i sigili delle fiamme gialle di Salerno per impedirne l'ulteriore utilizzo. La connessione telematica tramite i concessionari di Stato, in assenza della quale le apparecchiature sono illegali, non solo consente la quantificazione delle giocate sulle quali calcolare lo specifico prelievo erariale, ma soprattutto impedisce eventuali alterazioni al ribasso della percentuale minima da restituire ai clienti sul totale delle somme nel complesso incassate, attualmente fissata al 74% per ogni ciclo di 140.000 partite. Per gli esercenti verbalizzati dai finanzieri si profila ora una doppia sanzione amministrativa, la prima con il pagamento da un minimo di 5.000 ad un massimo di 50.000 euro per ciascun apparecchio da intrattenimento non a norma, la seconda per la mancata osservanza dell'obbligo di sospensione imposto dal DPCM del 14 gennaio scorso.